Ormai due anni la Turismo FWG si è sempre di più specializzata e si è sempre più orientata a inserire e utilizzare tutta la potenzialità della rete internet per poter comunicare le offerte turistiche e il brand del Friuli Venezia Giulia. Due anni fa è stato pubblicato un nuovo portale generalista sulle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, su tutte le informazioni relative al mondo turistico, questo portale si è poi lentamente affiancato a quelle che sono le presenze importanti dal punto di vista social, quindi abbiamo immediatamente aperto i profili social, i profili Twitter, ci siamo avvicinati ultimamente al mondo dei blogger con delle iniziative abbastanza mirate e estremamente concepite per la realizzazione di contest tematici per cui siamo riusciti anche a portare in regione alcuni dei blogger più importanti e più famosi a livello nazionale che hanno contribuito alla generazione e alla creazione del www.golive.it che è un contenitore di post, un contenitore di blogger, un contenitore di iniziative. Tutto questo per portare il turista, per avvicinare sempre di più il turista al mondo della conoscenza dell'eccellenza del Friuli Venezia Giulia e guidare contestualmente anche gli operatori del settore turistico a scoprire le funzionalità e le potenzialità del mondo dell'offerta online. Ci siamo orientati alla costruzione dei significativi strumenti di support mobile, per esempio la nostra nuova app, il cui titolo è Live Itap, che è scaricabile online, che permette al turista di navigare con la sua applicatura mobile su tutte quelle che sono le caratteristiche importanti dell'offerta del Friuli Venezia Giulia. Ci stiamo spingendo sempre di più verso la realizzazione di portali e di app di tipo tematico che possono condurre, possono portare il turista a vivere l'esperienza del Friuli Venezia Giulia con le sue caratterizzazioni, dando sempre più valore alla regione Friuli Venezia Giulia come unico contenitore di offerte di eccellenza che vanno sia dall'offerta mare fino all'offerta enogastronomica e della montagna. Sono poche le regioni che racchiudono in 150 chilometri delle eccellenze che vanno da un bellissimo mare a una bellissima montagna a un'enogastronomia di sicuro interesse. Per cui nell'ambito del mondo online la presenza del Friuli Venezia Giulia tramite il lavoro svolto dall'agenzia è una presenza che si sta sempre di più affermando. Naturalmente siamo ancora dietro alcune delle regioni che sono partite anni fa con la loro promozione online, parliamo essenzialmente del Trentino Alto Adige, della Val d'Aosta e della Toscana, ma stiamo sicuramente avanzando in termini di prestazioni, in termini di numeri, diventando una regione ormai a ridosso delle eccellenze per quel che riguarda la presenza online. Nel prossimo futuro pubblicheremo delle app tematiche che daranno possibilità al turista con azioni di gamification e con azioni di focalizzazione sulle funzioni di georeferenziazione e quindi dando molto rilievo alle caratteristiche della georeferenziazione tramite realtà aumentata. È un concetto abbastanza innovativo, abbastanza nuovo, ma che accompagnerà il turista nella visita alle città e ai posti di eccellenza del Friuli Venezia.